Roma-Fiorentina, scontro tra Italiano Foti, cosa è successo? Roma-tensione durante il primo tempo di Roma-Fiorentina. Prima per l'espulsione a Dodo per il doppio giallo. Poi per un calcio d'angolo inizialmente non assegnato alla Fiorentina salvo poi il ripensamento di Gioia e del Guardalline e, ne è nato un batebecco tra Vincenzo e Italiano. Tecnico della Viola, è Salvatore Foti, il vice allenatore di Mourinho. I due si sono urlati a distanza salvo poi ritornare tutto alla calma una volta ripreso il gioco. Virgola.